L'Escano hai voluto fortemente questo approdo a Pescara, come mai? Sì, sicuramente è stata la mia prima scelta e anche avevo la possibilità di scegliere quest'anno che questo comunque è una fortuna per un calciatore ma penso che quando ti chiama una squadra grande come il Pescara così storica non ci si può pensare su, infatti avevo questo desiderio anche da qualche anno e quindi per me è stata una scelta subito voluta fortemente. Tre stagioni in doppia cifra è un momento di grande maturità questo per te? Sì, sicuramente i numeri nel calcio contano, parlano da sé, io penso che a 25 anni come ho adesso il calciatore, soprattutto la prima punta, comincia a avere consapevolezza dei propri mezzi e comincia a avere anche un'esperienza dopo 7, 8, 9 campionati in Lega Pro quindi penso che adesso arrivo a Pescara nel momento giusto e spero di poter continuare così a migliorarmi. Curiosamente prima abbiamo sentito Milani, ora te entrambi avete fatto quello al Pescara lo scorso anno? Sì, sì, all'andata è finita 2-2, su una carambola in aria ho fatto gol e anche al ritorno avevo possibilità di segnare l'Adriatico e anche lì quando sono venuto a giocare qui vedendo lo stadio tutto avevo capito che era veramente una piazza importante e niente, ora spero di fare gol alle altre. C'è una staffetta argentina nel tuo ruolo perché qui c'era Franco Ferrari che ha fatto benissimo e ora tocca a te, hai un po' paura di raccogliere questa eredità o ti stimola? No, sicuramente con Franco sono anche amico, un bel rapporto con lui, mi ha parlato benissimo del Pescara ci siamo visti anche adesso prima che lui andasse a Vicenza no, sicuramente penso che Franco ha fatto benissimo ma io vado avanti per la mia strada sicuramente tutti i calciatori hanno degli alti e bassi quindi io penso che qui farò la mia strada spero di fare bene, magari come lui di più ma io penso che adesso lui è a Vicenza e io adesso devo pensare al Pescara. Da un punto di vista tecnico, predirigi giocare in un attacco a due magari con un trequartista o con un tridente dove tu sei la punto centrale e ci sono due esterni? Sì, io due anni fa giocavo 3-5-2 con due punte, lo scorso anno col trequartista le due punte adesso in ritiro siamo da una settimana, abbiamo cominciato a giocare davanti insieme anche a Cuppone quindi sì, mi piace con l'altra punta che magari è un po' più mobile rispetto a me perché anche quando si va a riempire l'aria più attaccanti, più centrocampisti arrivano meglio è però mi adatto anche a giocare da solo. Un bilancio di questi primi dieci giorni di lavoro? Sì, sicuramente abbiamo lavorato molto col mister e il suo staff e niente, i ragazzi si stanno impegnando siamo una squadra per il momento giovane, composta anche da qualche elemento di esperienza il mister ha cominciato da qualche giorno a farci capire un po' come vuole impostare la squadra tatticamente però niente, io sono contento, ho trovato subito una bellissima struttura è un gruppo che lavora e tira avanti tutto insieme e per adesso siamo soddisfatti. Grazie. Grazie. Grazie.